I responsabili di due società titolari di un noto marchio nel settore delle prestazioni sociosanitarie, educative e di assistenza domiciliare, con sedi rispettivamente ad Arezzo e nel Val d'Arno, sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza per omesse dichiarazioni contributive e multati per oltre 2 milioni di euro. Le imprese, è quanto emerso dalle indagini, che hanno portato all'individuazione di 136 lavoratori totalmente in nero e di 165 rapporti di lavoro irregolari, procuravano personale incaricato dell'assistenza sia domiciliare che ospedaliera a persone anziani e o disabili e avevano creato una cooperativa sociale paravento per aggirare la normativa e assicurarsi vantaggi fiscali e contributivi. Sono state le tariffe particolarmente basse, 5 euro l'ora, a insospettire gli investigatori. Le indagini hanno consentito di appurare che i responsabili delle due imprese in parola avevano creato ad hoc una cooperativa sociale priva di struttura logistica con il compito di interporsi fittiziamente nella gestione operativa. Di fatto, il procacciamento dei lavoratori continuava ad essere effettuato dai titolari del marchio che però attraverso tale stratagemma potevano usufruire del regime agevolato fiscale e contributivo di cui godono le cooperative sociali.